L'altro giorno ho aperto il mio canale, uno scrittore sul web, che era un po' che non aprivo, e sull'ultimo video pubblicato ce l'ha scritto dieci mesi fa. E devo ammettere che il tempo mi è letteralmente scivolato tra le dita. Non mi ero minimamente reso conto di quanto tempo fosse passato. Poi ho fatto due conti e praticamente l'ultimo video che ho fatto l'ho fatto appena prima del trasloco. Poi ho trasloccato, poi sapete, no? Il lavoro, la famiglia, il trasloco. Per mettere le scatole a posto ci ho messo dei mesi, letteralmente, perché lavorando e tutto c'era sempre roba in mezzo alle palle, ma non c'era mai tempo di mettere le cose veramente bene, poi dovevano arrivare immobili, eccetera, eccetera. Dieci mesi! Wow! Non me ne ero reso conto, ma proprio per niente. E quindi questo è la cosa che mi ha stupito di più, in un certo senso, anche se l'idea era quella già ai tempi della fondazione del canale. Il pubblico ha continuato a crescere, le views hanno continuato a crescere, in maniera lenta ma inesorabile. Tanto che quando ho pubblicato il mio ultimo video ero poco sopra gli 800 iscritti e adesso sono sopra i 1000, che è poco, in termini youtubici è davvero poco, ma per il mio canale che parla solo ed esclusivamente di libri senza gossip, senza svarioni, senza deviazioni, senza rubriche extra e così via, è tanto. Per me è tanto, soprattutto considerando il lungo periodo di natività. Quindi grazie, grazie a tutti voi per avermi seguito fin qui, nonostante la mia prolungata assenza. Assenza che tra l'altro non riguarda solo questo canale, ma anche quello che una volta io consideravo il mio canale principale, ovvero Opinioni Moleste, che è un canale morente, non nel senso tradizionale del termine su YouTube, ovvero un canale che le cui views sono calate vertiginosamente, nonostante la frequenza della pubblicazione, della qualità, il mantenimento di un certo standard e così via, ma perché me ne sono lentamente disinteressato. perché, non lo so, fa parte del mio passato, in un certo senso. Uno scrittore su web fa parte del mio passato, ma la mia passione per la letteratura, per la lettura, per la narrativa, per la scrittura, non è scemata. Ha deviato, perché adesso leggo prevalentemente testi scientifici di astronomia, sull'esplorazione spaziale, sulle nuove tecnologie e così via, e ve li mostrerò magari in un prossimo video e così via. Ma qua e là mi è capitato di leggere qualche romanzo, normale, narrativa. Ho scritto un romanzo nel frattempo, in tempi record, e ho pubblicato il video a proposito qua, su Opinioni Moleste, se voleste darci un'occhiata parlo del fatto che ho scritto questo romanzo in 15 giorni, sono nel conto normale, 200.000 battute per un contest letterario, che avevo meno di un mese di tempo per completarlo, e così via. Quindi uno scritto su web non ha ragione di morire. Quindi come speciale, diciamo, in ritardo, dei mille iscritti, e come ringraziamento, riparte il canale con questo vlog. Un po' di scuse, un po' di spiegazioni, e volendo lanciare anche un messaggio. In passato, anche se non mi pare su questo canale, potrei sbagliarmi, ho già parlato del fatto che mi capita, talvolta, di trovare grandi quantità di libri nella spazzatura. Vado a buttare la spazzatura, c'è la differenziata. Nei bidoni della carta, o addirittura nei bidoni della differenziata, a seconda del quartiere, magari trovo centinaia, decine, centinaia di libri. Cioè, a volte delle quantità davvero consistenti, in cui in mezzo ci sono anche guide turistiche, enciclopedie del secolo scorso, e un sacco di roba che non ha più ragione d'essere oggettivamente. Però molti sono libri, spesso e volentieri di narrativa, addirittura alcuni, tipo ieri, ecco, sono di arte, di quelli che costano anche un tot. Ieri ne ho trovato uno su Monet, ok? E quindi, wow, mi sorge sempre questo, quest'ira mi sta in comprensione. Diamo un'occhiata un attimo a questi libri, e poi dopo vi dico una cosa, a riguardo del fatto del buttare i libri. Una cosa non così scontata, però. Eccoli qui, magari togliamo il triciclo. Non è un caso, anche se potrebbe sembrarlo, che siano vicini al calorifero, perché, come vi dicevo, sono stati fuori, hanno preso anche un pochino d'acqua, anche se erano chiusi nei bidoni della carta. Bisogna che svaporino un po', poi li metterò anche un po' sul terrazzo, con il giro del sole, a prendere un po' d'aria, perché oggettivamente era carta, ma erano nella spazzatura, d'accordo? Quindi vediamo un po' che cosa abbiamo salvato. Allora, ho preso questo, Favoriti della Fortuna, questi sono i libri che non ho destinato al book crossing, sono quelli che mi è sembrato potesse valere la pena salvare, che è un romanzo storico, ambientato nell'antica Roma. I romanzi storici si sono scritti bene, sono molto belli, perché forniscono tante informazioni interessanti a livello storico, appunto, e se sono scritti bene, intrigano anche, quindi non male come cosa. Ho preso questi, che non ho la più palda idea di che cosa siano, mi piaceva un botto alla copertina, che tra l'altro è rilegata così e tutto, La più bella donna del mondo, e Le mele d'oro. Io, non so, potrebbero essere anche dei romanzi d'amore, perché non so, spero che la copertina valga il contenuto. Questo Patrick O'Brien, Ai confini del mare, l'abbiamo preso solo ed esclusivamente, perché è a tema marinaresco, il mio suocero è un appassionato di bar, che naviga e tutto, e quindi potrebbe interessargli. Questo l'ha salvato mia moglie, Camilleri, gli arancini di Montalbano, perché mia moglie piace Montalbano. Montalbano, Jurassic Park, probabilmente una trashata, però ero oggettivamente curioso, dopo aver letto Alien, il libro, che è sorprendentemente buono, ho detto, ma non sia mai che sia lo stesso per Jurassic Park. Forrest Gump, che ammetto, non sapevo della sua esistenza come romanzo, sapevo solo del libro, e del film, naturalmente, non so se è il film tratto da romanzo o viceversa, ma non leggerò, poi lo scoprirò. Pomodori Verdi Fritti, che è piuttosto noto, non l'ho mai letto, però mia moglie ne ha sentito parlare bene, quindi vediamo un po'. Il Capitale Umano, idem, ne ho sentito parlare, ci darò un'occhiata. Un altro di Patrick O'Brien, sempre a tema marinaresco, e un altro di Patrick O'Brien, sempre a tema marinaresco. Poi, questo interessava a me, perché sti giorni sono in ferie, c'è la tua ricetta di cucinaia cinese, le ricette sono un po' come i libri, no? Tutto sommato non invecchiano mai, e qua c'è una sul pesce, quindi perché non provarne qualcuno? A me tutto sommato la cucina cinese piace, quindi perché no? Perché no? Poi qua, vabbè, un classico, Uccelli di Rovo, nella spazzatura, vabbè. Poi un altro storico dello stesso autore, I giorni della Gloria, sempre ambientazione romana, se non sbaglio, non vorrei dire una scemenza, perché adesso li ho guardati proprio velocemente, come stavo dicendo. Ah, Il Mandarino, sempre un romanzo storico, ambientato, scusate che ho l'LCD ribaltato, e quindi mi muovo in alto, ma in realtà si muove in basso, per lo schermo e così via. Ovviamente ambientato nell'antica Cina. Questo, allora, dopo di me il diluvio, e a mio neppetto a Albert lascio, questo, è il secondo diluvio universale, e sembra in chiave comica, quindi ero curioso, perché magari è un libro da ridere, ci sono molti libri da ridere, che sono carini, e anche pregni di significato, mai sottovalutare il fatto che... Michael Crichton, allora, Michael Crichton, è un autore commerciale, ok? Vaffanculo sto l'LCD, ecco qua. Però il tema mi sembrava interessante, tutto sommato, non credo di aver mai letto qualcosa di lui, e quindi... Questo qui, Theophilus North, di Thornton Wilder, non ha più palda idea di cosa sia, gli diamo... gli diamo una chance, che ne dite? Poi c'è... Povero Ricco, di Irwin Shaw, che non so cosa sia, ma di nuovo mi sembrava promettente. Questo qua anche è rilegato... Allora, questi sono selezione della narrativa mondiale, come potete leggere. L'alternativa del diavolo, Un treno per il futuro, L'errore del chirurgo, da le mani d'oro, perché non noi? Selezioni dal Reader's Digest, ok? Non lo so se ne vale la pena, ma così come è presentato, sembrerebbe una selezione un po' come si deve, no? Poi abbiamo questo, Codice 5 di Frank Slaughter, non ho la più palida idea di cosa sia, diamogli un'opportunità. Gli Eredi, che di nuovo potrebbe, potrebbe essere una cosa interessante, ma affanculo! Ops! Vabbè, un altro di Montalbano, che come dicevo prima, mia moglie, quasi finiti, Nei panni di Pietro, che sicuramente ha salvato mia moglie mentre non la guardavo, perché lei è cattolica e questo potrebbe interessarli, anche perché Nei panni di Pietro vuol dire il Papa, no? Comunque Chiesa e così via. Io questo non lo conosco, ma è di Hemingway, quindi già soltanto fatto che sia stato buttato via, è un peccato. Dostoievski, Delitto e Castigo. Ecco, allora, Delitto e Castigo, volume 1 e volume 2. Ecco qua. Io ce l'ho già, ma questo è un libro, ecco, questo è un libro che senza vergogna darei come premio a qualcuno, perché è un grandissimo classico, certo, vi deve piacere Dostoievski o comunque gli autori russi in generale. I Malavoglia di Verga, Idem Compattate, cioè un libro che non mi vergognerei a dare. Padre e figli di Turgenev, credo che si pronunci, e non lo so che cos'è, quindi lo leggerò. Poi, ah, di nuovo, Canto di Natale di Dickens, come si cazzo si fa a buttare Dickens nella spazzatura? Un altro di Hemingway, Morte nel pomeriggio. Ah beh, questo ammetto di averlo preso, questi due li ho presi per la mia anima trash. Abyss e Abissi, cioè, boh, ci do una chance, dai, non si sa mai. Non calpestate il mio giardino di Alice Hoffman, non so che cosa sia, però ho letto la quarta di copertina e sembra una cosa tutto sommato interessante. Ah, in mezzo c'era perfino la foto di un bambino, no? Cioè, roba di famiglia proprio, vabbè, non ce la stai. E un'altra selezione del Reader's Digest, ride, Reader's Digest, ho proprio invertito, Fuga Berlino, Splendori di Seta, e Il Signore Creò, e La Grande Diga. E per finirissimissimissimo, Monet, porca miseria ragazzi, nella spazzatura, ma voi lo sapete, avete una pallidissima idea di quanto cazzo costano questi libri sugli artisti con dentro tutte le immagini in alta definizione delle loro opere, costano un'ira di Dio. Questi, come dicevo, sono i libri che ho salvato, non sono tutti i libri che ho salvato, sono solo quelli che io e mia moglie abbiamo, scartabellandoli così rapidamente perché eravamo anche un po' in mezzo ai piedi, deciso di salvare perché ci interessavano, ci mancavano, sono grandi classici e cose del genere. In mezzo ce ne sono molti che non abbiamo idea di cosa siano, abbiamo soldato una letta così alla quarta di copertina, eccetera, eccetera, però sono un tot più del doppio di questi, sono poi stati portati al book crossing in fretta e furia di sera, bambino nel seggiolino, libri buttati in macchina, al book crossing con delle pile così di libri, vuoto, perché il book crossing è sempre vuoto, la gente ci va, prende i libri ma non fa un crossing, in realtà li prende e basta, e quindi ne ho salvati tanti. Ora, qual è il punto sul buttare via i libri? Ci possiamo indignare? Sì, perché comunque ci sono modi più intelligenti di liberarsi dei libri, tipo portarli al book crossing, ma capite lo sbattimento, bisogna che ci sia un book crossing nella vostra città. Si spera che non sia eccessivamente lontano, nel mio caso ci ha voluto un quarto d'ora di macchina per arrivarci e portarci i libri, quindi relativamente vicino ai nervi, proprio ultimo quartiere di Genova, zona Levante, prima che finisca la città. Io sono in Albaro, che non è in centro ma verso il centro, quindi ci vuole un po' di tempo, oppure si possono per lo meno se avete fatica, non avete voglia, vi pesa al culo, non avete un mezzo, troppi libri e così via, ammucliateli vicino al bidone della carta, ok? Cosicché i passanti possano, senza fare come ho fatto io, che mi sono tuffato letteralmente fino al petto, dentro il bidone, togliendo la carta, gli involti di merendine, i pezzi di giornale, la cartaccia del cazzo, così a mano e distraendo i libri finché non mi arrivava alle braccia perché il bidone è profondo, io sono le 72 quindi fino in fondo in fondo non ci arrivo senza ribaltarlo, magari la gente senza doversi insozzare, tuffare nel bidone della rumenta e rubistare nella spazzatura, può dare un'occhiata e vedere se c'è qualcosa che gli interessa o che potrebbe servire a qualcuno. C'era un intero dizionario italiano-latino che è utilissimo per la scuola, costa anche dei gran soldi tra l'altro, senza bisogno di tuffarsi nella spazzatura, ecco. E questo è uno. Due, mentre facevamo questo lavoro sono passati una signora d'età e un ragazzo, no? Ed erano lì bababababab qua i libri, vergogna, eccetera, eccetera, e io gli ho detto sì, li ho tirati fuori dalla spazzatura perché così, sapete. E lui mi fa però, buttarli così, si possono far valutare e tutto, al che l'ho fermato perché ahimè, mi sono fatto un'esperienza in merito e ragazzi, se non li regalate a qualcuno o non li mettete di fianco al bidone della spazzatura o non li portate a un book crossing è difficilissimo trovare una soluzione alternativa per i libri. Perché? Perché quando io ho traslocato, considerando anche che già mi era capitato di raccogliere tipo tutti questi, no? Nella spazzatura c'è sempre qualche libro che non interessa o che è un doppione o cose del genere, ma magari a qualcun altro. Per esempio, nella spazzatura hanno trovato una pila ma veramente tanti di Christian Jacques. Christian Jacques è uno che scrive romanzi storici sempre ambientati in Egitto. A me non piace, lo trovo un po' superficiale, le storie sono sempre un po' meh e così via, quindi però piace a un sacco di gente Christian Jacques, è un attore molto, è un attore, un autore molto noto e quindi qualcuno lo leggerà. Ma se voi questi libri provate a portarli alle bancarelle o al libraccio, no? Dove fanno la compravendita del libraccio nella mia città perlomeno ha fuori 5-6 carrelloni di libri a 50 centesimi, 1 euro, 2 euro, 4 euro, così, che sono libri praticamente che loro hanno raccolto perché la gente svuota le case e di tutti questi libri ne hanno talmente tanti che non sanno cosa farsene. Quindi io gli ho portato tipo 40 libri, loro me ne hanno presi tre che mi hanno pagato 50 centesimi l'uno e tutti gli altri non li volevano. Gli ho detto ve li regalo? No, non abbiamo spazio, non interessano a nessuno, non li venderemo mai, fantastico. Vado, avevo una pila di sti fumetti boh, che a me non interessano particolarmente, vado alle bancarelle in piazza Colomo dove ci sono tutti quelli che vendono i libri usati, i fumetti usati e così via. Niente, non li volevano. Io a un certo punto ho trovato uno che mi fa guarda, non valgono nulla, cioè valgono collezionisticamente parlando perché sono primi numeri di fumetti di 30 anni fa e tutto, ma non li compra nessuno e te li regalo. No? E sono riuscito a regalarli alcuni, non tutti. Quindi capite che nel momento in cui io su 40 libri mi sbarazzo di tre, su una pila così di fumetti mi sbarazzo soltanto di alcuni, anche regalandoli senza guadagnarci niente e prendendomi il disturbo di camallarmeli in giro, cioè portarmeli in giro e così via, comincia a diventare complicato. Quindi il fatto di portarli a un book crossing o di renderli perlomeno disponibili a terzi è l'unica soluzione accettabile. Scordatevi di farci dei soldi, scordatevi che ve li prendano le librerie, non c'è speranza. Purtroppo non c'è speranza e questa è la triste verità. Addirittura stavo pensando di fare un contest a premi con voi iscritti e regalare i libri. Però il problema è che mi sono scontrato con un conflitto interiore. Nel senso i libri che mi interessano me li tengo, no? I libri che non mi interessano mi sento in colpa a regalarli perché se io vi do un premio per un contest qua sul canale vorrei darvi qualcosa che secondo me vale la pena di leggere. Se il libro l'ho scartato significa che magari è valido ma per me non vale la pena di leggerle quindi mi sembrava di regalare spazzatura. Detto proprio chiaramente quindi li ho portati al book crossing. Spero nel tempo di entrare in possesso o li acquisterò a un certo punto se il canale crescerà ancora un pochino perché ricordiamoci che questo canale non ha nemmeno i requisiti per essere monetizzato. Ho finalmente raggiunto il numero di iscritti minimo richiesto ma sono al 43% delle visualizzazioni annuali richieste, delle ore di visualizzazione anche perché il canale è fermo da 10 mesi quindi quello oggettivamente aiuta. Io spero di trovare o acquisterò un tot di volumi alcuni sono anche difficili da trovare ne ho un paio di doppioni addirittura di urania molto difficili da trovare e poterveli mandare come premio per il momento non ha senso. Quindi ragazzi per chiudere vi ringrazio di nuovo per avermi aspettato finora per avermi sostenuto finora con un po' di commenti perfino con dei mi piace con delle visualizzazioni con delle iscrizioni nonostante la lunga inattività del canale. Come dicevo all'inizio del video in realtà tutto ciò era voluto perché io ho creato un canale che sapevo bene che così come era strutturato non sarebbe stato eccessivamente soggetto all'impietosità del tempo d'accordo? Perché un canale come più mi moleste tendenzialmente o come molti altri canali tendenzialmente crea dei contenuti che sono di uso e consumo immediato uso e getta no? Di uso e via perché perdono di attualità perdono di interesse non è più l'argomento del momento tutto quello che volete i libri entro certi limiti linguistici di quanto sono vecchi geografici e altre problematiche non hanno età ok? Quindi se io vi faccio una recensione di un libro oggi tra dieci anni la recensione di quel libro sarà ancora valida e quindi questo è bello è bello perché il fatto di avere un canale i cui contenuti non diventano tendenzialmente obsoleti è una figata obiettivamente tra l'altro a proposito di contenuti che si spera non diventino obsoleti troppo presto una delle main reasons una delle ragioni principali per cui ho mollato i due canali adesso sono ritornato qua oltre al lavoro la famiglia e così via è che mi sono buttato in un'impresa anche piuttosto dispendiosa nella creazione di SpaceShip vi lascio il link del canale magari qua sotto in descrizione vi avverto il contenuto è solo in inglese per il momento ci sono anche un paio di video che ho ridoppiato in italiano ma di base è solo in inglese poi vedrò se creare una succursale italiana del canale è un video che propone animazioni con come protagonisti queste pecore animate e come tema parla di astronomia scienza futuro dei viaggi spaziali e della tecnologia quindi io porto questi video animati di 4-5 minuti con le SpaceShip con le pecore spaziali come protagoniste parlando i tre video che sono usciti per il momento perché escono con cadenza più o meno mensile perché costa tanto creare doppiare tradurre animare questo tipo di video parlano uno degli autogrill spaziali uno dei cilindri di O'Neill che sono un'alternativa alla colonizzazione spaziale e un altro della scala di Kardashev ok quindi argomenti del genere il prossimo che ora è in lavorazione parlerà dello StarTram Maglev e poi si parlerà di altri argomenti il contenuto è solo in inglese sottotitolato però bene se riuscite se non riuscite a seguire l'orecchio però perlomeno capiste un po' di inglese potete seguire i sottotitoli e magari poi domani farò i sottotitoli in italiano se ho tempo e voglia ecco quindi quella è una delle ragioni dateci un'occhiata e vedete se ne vale e vale la pena tutto sommato secondo me sì ci sto investendo molto in termini di tempo di lavoro di denaro o anche la pagina Facebook di Spaceship che quotidianamente pubblica delle news a tema del canale e quindi questo ci vediamo presto non vi dirò mai più ci vediamo tutti i lunedì alle 15 puntuali che mi piaceva tanto come saluto di conclusione non è più realistico farò i video quando riesco spero di farne il più possibile perché in questi giorni sono in ferie di farli uscire con una cadenza settimanale per coprire un po' di settimane quindi grazie per l'ultima volta e noi a questo punto cambiamo il saluto di chiusura ci vediamo al prossimo video grazie a tutti